Nel capoluogo siciliano oggi una delegazione del Movimento 5 Stelle guidata da Luigi Di Maio ha incontrato il sostituto procuratore antimafia di Matteo, solidarietà per le minacce ricevute. Quanto alle riforme e al patto del Nazareno... Il patto del Nazareno sono 30 anni che si mettono d'accordo su ogni cosa. Il patto del Nazareno è quel patto che ha abbassato le pene di reato di scambio politico mafioso. Questo è il patto, quindi vi suggerisco anche di non parlare. Forse si romperà qualcosa il patto del Nazareno quando aboliranno il vitalizio per i mafiosi.